250 ore in sei mesi, 40 posti disponibili, 4 moduli didattici, un laboratorio di progettazione integrata, tirocinio e prova finale per il percorso di formazione professionalizzante di expert in energy urban planning, figura altamente qualificata nell'epoca del Green Deal e della transizione energetica, capace di utilizzare strumenti per la pianificazione energetica, intesa come opportunità e risorsa per lo sviluppo locale e la rigenerazione dei contesti urbani e territoriali. Il corso, promosso dal Dipartimento di Architettura della D'Annunzio con il contributo della Regione Abruzzo, è riservato a laureati ma anche funzionari pubblici ed offre infinite possibilità di sviluppo professionale sia in campo privato che pubblico. L'obiettivo è quello di formare delle figure tecniche che siano in grado di fare una pianificazione energetica delle nostre città e del nostro territorio in modo da traghettare l'Abruzzo anche dal punto di vista della pianificazione verso gli obiettivi del Green Deal e gli obiettivi della transizione energetica. Anche perché la sostenibilità di un territorio dipende anche da come i tecnici disegnano le nostre città e il nostro territorio. L'esperto in Energy Urban Planning è una figura professionale con delle competenze avanzate nel campo della pianificazione energetica, però intesa quest'ultima come un'occasione, una risorsa per promuovere lo sviluppo locale e i progetti di territorio. Quindi è un esperto di energia con capacità però di guardare l'energia come ricaduta sulla città, sulla qualità degli spazi pubblici, sul benessere dei cittadini. Quindi ottimizzazione delle rinnovabili e anche sfruttamento del territorio? Sicuramente ottimizzazione delle rinnovabili, pianificazione dell'energia da fonti rinnovabili, però vista in una maniera, ripeto perché è importante, intersettoriale, cioè guardare l'energia come occasione di sviluppo della città e di riqualificazione dei suoi spazi e di rigenerazione dei suoi spazi.